Sto ragazzino di famiglia ricca, Tommasino, è stato promosso agli esami di quinta elementare quindi la mamma e il papà per premiarlo lo portano un giorno al mare allora lui tutto contento col costumino, se mette sul bagnasciuga guarda a destra e guarda a sinistra, poi se gira verso i genitori gli fa a mamma, a papà, hai visto che il sinere c'ha qua la signora? insomma il padre gli fa, ma Tommasino, ma che cosa stai dicendo? questo ti hanno insegnato a scuola privata in questi anni? bene, allora per punizione andrai a fare le medie dai preti e insomma il poro Tommasino se fa tre anni de medie dai preti viene promosso all'esame di terza media e i genitori per premiarlo lo riportano al mare allora Tommasino col suo costumino arriva verso la riva, si guarda a destra, a sinistra poi se gira verso i genitori gli fa mamma, papà, hai visto che pacco che c'ha il bagnino?